bentornati continuiamo con la nostra indagine della galleria filtri e oggi andiamo a vedere un effetto abbastanza interessante che è l'effetto pennello a secco ingrandiamo un po così ci rendiamo conto meglio portiamo tutto a zero questo è uno degli effetti che simulano una pittura che secondo me danno uno dei risultati più realistici possibile infatti possiamo andare ad agire sulla dimensione del pennello in modo da renderlo realistico per il tipo di immagine che abbiamo possiamo andare ad aumentare il dettaglio delle pennellate dopodiché possiamo aumentare la texture di queste pennellate dando un risultato che è abbastanza secondo me fedele a quello che sarebbe un dipinto vero perde ovviamente quello che è l'aspetto fotografico di dettaglio però ha una resa che potrebbe simulare abbastanza efficacemente delle pennellate quindi secondo me se si vuole andare a simulare un dipinto effetto assolutamente da tenere in considerazione inscrizione Grazie.